Martedì 28 settembre, telespettatori di Video 33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca nera. E' morto Erwin Stricker, era soprannominato il cavallo pazzo della famosa valanga azzurra dello sci. Fu il primo atleta ad utilizzare le ginocchiere e il casco aerodinamico. Lasciati gli sci, aveva inventato il rent and go. Una grave malattia ha stroncato Erwin Stricker, morto in mattinata all'ospedale di Bolzano all'età di 60 anni. Era soprannominato cavallo pazzo per via del suo inimitabile stile e del suo temperamento vulcanico che evidenziava sia nello sci dove è stato uno dei più grandi campioni azzurri che nella vita. Durante gli anni della nazionale, Stricker si fece notare per diverse sue invenzioni applicate allo sci alpino. Fu infatti il primo atleta a utilizzare le ginocchiere, il bastone aquilineo, il casco aerodinamico e quello da slalom. Il 24 marzo 1973 ottenne il primo podio in Coppa del Mondo, un secondo posto nello slalom gigante di Heavenly Valley negli Stati Uniti, mentre il suo secondo e ultimo podio in Coppa risale allo storico 7 gennaio 1974. Quel giorno sulle nevi tedesco-occidentali di Berchtesgaden nacque la valanga azzurra con 5 italiani nelle prime 5 posizioni del gigante. Stricker si piazzò terzo alle spalle di Pietro Gross e Gustav Töni e davanti a Helmut Schmalz e Tino Pietro Giovanna. Nel 74 subì nuovamente una grave caduta e fu operato all'ospedale di Bressanone. Nel 76 si ritirò quindi dalla vita di sciatore attivo. fece un tentativo di ritorno nel 1977, ma l'anno dopo decise di lasciare definitivamente. Anni fa gli era stata diagnosticata una grave malattia che era riuscita a sconfiggere. Per festeggiare i 50 anni ha fatto il giro del mondo con la moglie Linda, alla quale era attaccatissimo, e i due costituivano una delle coppie più invidiate e apprezzate dell'Alto Adige. Lo scorso 15 agosto, alla festa per i suoi 60 anni organizzata a Merano, dove viveva, erano intervenute circa 500 persone. Erwin Stricker era stato il padre della Rent and Go, il noleggio qualitativo prima degli sci e poi delle biciclette sulla linea della Val Venosta. Amico di tutti, non aveva nemici ed era una persona solare e soleva dire noi dobbiamo fare amare ai nostri figli le nostre montagne e metteva in pratica questi propositi facendo pagare prezzi accessibili a tutti per il noleggio degli sci. Lasciata la carriera scistica, era diventato un apprezzato imprenditore sempre nel campo dello sci ed era rappresentante di diverse marche, si era fatto promotore dello sviluppo dello sci in Cina.